Buongiorno a tutti e ben ritrovati! Oggi andiamo a vedere il flip-flop latch realizzato con port and or. Visto nei video precedenti ho realizzato il latch a port and end perché in genere lo spiego in questo modo però è giustamente anche da sapere che comunque si può fare anche con port and or visto che qualcuno l'ha commentato preferisco chiarire anche questa configurazione così non ci sono dubbi. Andiamo a vedere come si realizza e andiamo a vedere sia la tabella delle ingressi uscite sia il diagramma temporale. Insieme tra un attimo. Bene, sia pure i flip-flop poi li trovate sempre come un rettangolino in cui in questo caso abbiamo set, reset, q e q negato dove ovviamente il set mi porta l'uscita a 1 e il reset me la porta a 0 e all'interno possiamo pensare che siano collegate delle nor in questo modo fate attenzione che in questo caso se avete qua q e q negato vengono scambiati il set finisce qua sotto all'ingresso di questa nor e il reset in quella di sopra potete anche fare delle prove mettendo a matita partendo ad esempio da supponendo l'uscita di un certo tipo, tipo 0-1 riportarle sugli ingressi e fare delle ipotesi perché poi il funzionamento è proprio quello e andiamo a vedere che cosa succede quindi ovviamente avremo le nostre varie combinazioni ok, così vediamo che cosa succede nei vari casi allora quando abbiamo la combinazione 0-0 abbiamo la memorizzazione quindi andiamo, rimaniamo nello stato precedente quindi va a memorizzare quanto, cioè a continuare quanto c'era in precedenza quando abbiamo 0-1 andiamo a resettare quindi l'uscita va a 0 quando abbiamo 1-0 andiamo a settare quindi l'uscita andrà a 1 poi ovviamente quella negata sarà al contrario ma poco ci interessa e quindi abbiamo fatto, abbiamo detto qui resetta resetta qui setta e questa invece è una configurazione non utilizzata ok, in questo modo qua e allora, quindi vediamo un attimino quello che abbiamo è ovviamente un'uscita o alta o bassa e vediamo ad esempio facendo delle ipotesi di diagramma temporale bene, andiamo a vedere qua che cosa succede supponiamo sempre di partire con un'uscita bassa quindi che lo stato precedente sia comunque basso come livello diciamo un po' più spesso così si vede un po' meglio ok qua arriva l'impulso di 7 quindi abbiamo 0 abbiamo 1-7 e resetta uguale a 0 quindi abbiamo questa combinazione qua 1-0 e quindi andiamo ad 1 poi arriviamo qui quando l'uscita è 1 qua ci troviamo 0-0 in questa fettina qua e quindi rimane la condizione precedente memoria per questo che si chiama latch vuol dire che si blocca quando ha la possibilità di memorizzare un bit e quindi rimane stato precedente che era 1 rimane ad 1 ora arriva il reset quindi ci troviamo a 0-1 resetta quindi va a 0 e ci troviamo qui poi ci troviamo di nuovo nella condizione 0-0 e quindi rimane stato precedente fino a qua dopodiché setta va a 1 va a 1 e rimane ad 1 fino a 1 poi trova di nuovo 0-0 quindi rimane nella condizione precedente fino a 1 e poi resetta e poi resetta perché si trova il reset a 1 dopodiché qua con il reset a 1 si trova 0-0 quindi continua a rimanere a 0 fino qua questo imporrebbe di nuovo 1-0 ma è già 0 quindi permane per tutto questo tempo poi va di nuovo si setta qua va alto qua qua rimane 0-0 quindi rimane lo stato alto e poi si resetta qua ok quindi sappiamo che la combinazione 1-1 non è utilizzabile perché creerebbe comunque una forzatura entrambe forzerebbero il livello 0 sull'uscita e insomma una oe qq negato non sarebbe creerebbe appunto dei conflitti e quindi è importante non poter poter fare in modo di non avere entrambe entrambi gli ingressi a livello alto bene spero che anche questo possa esservi d'aiuto così avete modo avuto modo di vedere il latch sia realizzato con le NOR sia realizzato con le NAND come abbiamo visto nel video precedenti e fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo al prossimo video grazie a tutti Grazie a tutti.